Musica Bentrovati ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni nel Territorio. Abbiamo il piacere di essere quest'oggi a Fonzaso dove incontriamo il neosindaco Cristian Pasa. Bentrovato sindaco. Salve e grazie per l'opportunità. Grazie a lei per il tempo che ci dedica per accoglierci qui in quella che è la sede del consigliare del vostro comune. Comincerei proprio da qui sindaco con la raccontare, lei è la sua prima esperienza, com'è andato questo inizio di mandato? Allora un inizio di mandato piuttosto curioso perché eravamo l'unica lista che si era candidata per amministrare il comune di Fonzaso. Come tale siamo riusciti a superare il quorum e quindi siamo riusciti a fornire ai nostri cittadini quella che è un'amministrazione come avevamo promesso. Quindi un'amministrazione molto attiva, molto presente sul territorio che si sta facendo carico di tutte quelle che sono poi le necessità di gestione di questo bellissimo paese. Quali sono comunque secondo lei i punti di riferimento, cioè quali sono quegli elementi sui quali bisogna investire fin da subito? Allora fin da subito un'amministrazione deve rilevare soprattutto ciò che magari nel tempo per varie ragioni, Covid compreso, si erano in qualche maniera fermate. Quindi tutte quelle azioni che anche le amministrazioni precedenti avevano messo in atto, ma perché per diverse ragioni dovute alla mancanza di personale, dovute al momento Covid, dovute anche alle scarsezze economiche che i nostri comuni devono affrontare, in qualche maniera si fermano. Quindi un'iniziale rilevazione di quali sono le problematiche che hanno fermato le cose, risolvere quei problemi e cercare di far ripartire ciò che era fermo da tempo. Ecco, la mia amministrazione in questi mesi, in questi primi mesi, ha lavorato soprattutto su queste cose qua, per poter portare a termine ciò che era stato avviato e per qualche ragione si era bloccato. Ecco, il sindaco, il primo cittadino è un po' il punto di riferimento comunque all'interno di una comunità, noi siamo, noi viviamo comunque in provincia di Belluno, sono tutte comunità, tutte realtà piccoline, ci si conosce bene all'interno di un stesso territorio. Qual è anche il suo rapporto con la cittadinanza? Allora, innanzitutto mi riempie di orgoglio poter essere chiamato primo cittadino della comunità di Fonzaso. Mi piace molto questa cosa e mi sento molto responsabile dell'incarico che i cittadini hanno deciso di affidarmi. Ritengo di avere un rapporto estremamente positivo con la cittadinanza e soprattutto devo dire che la cittadinanza di Fonzaso ha risposto estremamente positivamente per quanto riguarda la problematica dell'essere l'unica lista. Trovo una grandissima collaborazione dai cittadini che hanno ben compreso quali sono poi le problematiche di un comune di piccole dimensioni con scarse risorse economiche come Fonzaso. Quindi varie attività vengono svolte dai cittadini che sono sempre molto presenti e io stesso cerco di essere il più presente possibile alle iniziative che loro mettono in campo. Io naturalmente e anche tutta la mia amministrazione siamo amministratori che passano le giornate sul territorio sia a raccogliere problematiche che provengono dal territorio ma anche per il termine forse non è correttissimo ma a controllare ciò che viene fatto da noi sul territorio per cercare di comprendere se effettivamente le azioni che abbiamo messo in campo sono rispondenti a quelli che sono i bisogni. Quindi un'azione, un'interazione continua, costante proprio per creare il bene della comunità. Assolutamente sì, assolutamente sì. Non manca giorno che io abbia contatti con la popolazione. Pasa adesso ci addentriamo un pochino nelle tematiche, quindi nel lavoro quotidiano di tutti i giorni. Partiamo da una criticità del momento storico attuale che sappiamo essere un nodo che sta mettendo così in difficoltà famiglie, imprese e anche ovviamente gli enti pubblici. Mi riferisco al Caro Energia. Cosa sta facendo il suo comune? Come state cercando in qualche modo di far fronte a questa situazione? Allora, il Caro Energia in questo momento non ha ancora probabilmente calato la scure di tutto il dolore che può provocare. Perché effettivamente dal nostro territorio le istanze di cittadini o di imprese in merito a difficoltà economiche dovute per il Caro Energia ancora arrivano in maniera molto marginale e il comune in questo momento con le sue risorse riesce tranquillamente a far fronte a quello che può essere la richiesta d'aiuto da parte dei cittadini. Quindi in questo momento il comune da questo punto non ha bisogno di particolari iniziative perché sono poche le richieste in questo momento. Quindi con quello che il comune già normalmente mette in atto come forme d'aiuto ai confronti dei cittadini in questo momento noi riusciamo a gestire la situazione. In ogni caso noi stiamo valutando di istituire eventualmente, dovessero aumentare questo genere di richieste, eventualmente stiamo valutando di istituire effettivamente un fondo apposito per riuscire in qualche modo ad aiutare chi dovesse essere realmente in difficoltà economiche dovute specificatamente a questo tipo di problema. Certo perché c'è comunque l'angoscia di questa situazione che si trascina comunque con l'inflazione e quindi anche il potere d'acquisto delle famiglie stesse che viene a diminuire quindi un aumento della povertà, la Caritas comunque a livello italiano lo evidenzia questo. Noi siamo, ripeto, non ci stiamo nascondendo, anzi siamo in vigile attesa. Dovesse il problema scatenarsi di colpo, noi comunque siamo già nella situazione in cui possiamo pensare nel giro di pochissimo tempo di istituire un fondo apposito. Ma in questo momento, ripeto, dalla cittadinanza e dalle imprese non stanno arrivando richieste forti in questo senso. È probabile anche che sia dovuto al fatto che nei mesi scorsi c'è stata molta paura per questi aumenti quindi le famiglie e le imprese autonomamente sono andate verso una fase di autorisparmio, si sono autotutelate e quindi probabilmente i rincari non hanno inciso pesantemente come poteva essere immaginabile. Quindi hanno ridotto i consumi, quindi autonomamente riducendo i consumi non si sono trovati in grandissima difficoltà. Ma ripeto, il Comune dovessero manifestarsi esigenze di questo tipo siamo già in grado di operare per coprire eventualmente le richieste che dovessero arrivare. Quindi rimaniamo in attesa. Ecco, un altro fronte interessante è quello che riguarda la tematica dei lavori pubblici. Che cosa ci può dire su questo fronte? Allora, lavori pubblici, noi come amministrazione abbiamo un programma di lavori pubblici ampio ma in questi mesi la nostra occupazione è stata volta soprattutto a terminare quelle azioni che erano già state intraprese dall'amministrazione precedente. Spesso e volentieri accade che in Italia vengono avviate delle opere e poi non trovino completamento. Noi ci siamo dati come obiettivo quello di portare a termine ciò che era stato iniziato in modo che le cose possano avere un inizio e una fine, indipendentemente dal fatto che questa amministrazione potesse essere d'accordo o meno sull'iniziativa avviata. Ci può fare qualche esempio? Esempi ce ne sono tanti in questo senso. Hanno trovato tutto il nostro favore e quindi la volontà di portare a termine ciò che era stato avviato e possiamo dire che siamo riusciti a completare le lavorazioni di Maga Campon e quindi con il rilascio dell'agibilità. È stato un percorso molto difficile perché i trascorsi delle lavorazioni non erano assolutamente semplici e quindi la matassa che abbiamo dovuto disbrigare per riuscire a raggiungere il livello tale da poter rilasciare l'agibilità è stato veramente veramente complesso. Un altro esempio è stato il rilascio dell'agibilità di casa Tomasini e anche qui in accordo con Luz e con il comune di Arsie e altre lavorazioni di questo tipo, soprattutto su edifici comunali che non erano ancora o completati o che erano nell'iter di completamento, qualcosa che appunto negli anni era stato tralasciato non per volontà naturalmente ma per necessità. Quindi abbiamo trovato lo spazio, il modo e la capacità di portare a compimento ciò che è stato un processo di completamento delle figure dell'ufficio tecnico che purtroppo è un altro problema che affligge i comuni, è l'individuazione delle risorse umane che hanno le competenze poi per portare avanti gli incarichi. Il nostro ufficio tecnico fondamentalmente da novembre dell'anno scorso era scoperto della figura di dirigente dell'ufficio, quindi è chiaro che un comune di piccole dimensioni che non ha un dirigente di un ufficio tecnico che è stato trovato poi a luglio capisce che fondamentalmente si ferma tutto. Quindi una delle prime cose in questo senso per portare avanti quelli che poi sono i lavori pubblici è stata quella di individuare una persona che avesse le competenze per poter fare proprio questa cosa qui. Sindaco, cambiamo argomento, parliamo adesso dell'attenzione alle famiglie, alle politiche rivolte ai giovani, rivolte anche al mondo della scuola. Ovviamente lei è un insegnante, geologo e quindi ben conosce anche questo mondo. Qual è l'attenzione quindi dedicata alle famiglie e ai giovani? Allora, i giovani nel nostro paese sono una risorsa estremamente importante per il fatto che sta diventando estremamente rara e quindi più rara è la risorsa, più preziosa naturalmente diventa. Sembra un discorso di tipo economico, in realtà purtroppo lo dobbiamo applicare al giorno d'oggi anche alle nostre realtà perché lo spopolamento della montagna sta diventando un problema davvero serio e questo si ripercuote poi chiaramente nel mondo della scuola. scuole noi stiamo tentando di, e ci siamo anche riusciti, nel elevare lo standard qualitativo della vita scolastica perché un giovane fondamentalmente passa più di metà della sua giornata con la scuola o all'interno della scuola. Nel nostro caso la scuola primaria è stata dotata di una mensa che noi riteniamo essere di eccellenza che questa amministrazione ha completato un lavoro proprio per poter fornire se non altro quel momento di mensa comune che avesse uno standard qualitativo particolarmente elevato e che ha funzionato e ha trovato la soddisfazione delle famiglie. In questo senso anche il nostro istituto comprensivo sta lavorando nell'offerta formativa in modo da assumere delle caratteristiche peculiari per fare in modo che diventi attrattivo anche rispetto alle scuole del circondario e mi sto riferendo soprattutto alla scuola secondaria di primo grado per quanto riguarda il suo indirizzo sportivo e il suo indirizzo musicale. L'indirizzo sportivo della nostra scuola è una particolarità interessantissima perché all'interno della Regione Veneto, se non sbaglio, è solo il secondo caso per quanto riguarda la scuola di primo grado. Noi come comune, proprio andando incontro alle esigenze di quello che può essere il nostro istituto scolastico, abbiamo una progettazione per quanto riguarda l'intera riqualificazione degli spazi antistanti della scuola per lo sviluppo di quelle che sono poi le attrezzature necessarie per l'atletica al fine di poter svolgere le attività scolastiche all'interno del proprio perimetro in completezza, quindi una pista per i 100 metri, per il lancio del peso, per il salto in lungo e per tutte quelle attività che sono collegate all'atletica. E poi un'attenzione particolare sindaco anche per le fasce più piccole. Sì, noi abbiamo ben due asili qui nel nostro territorio, nel nostro comune, un asilo pubblico e uno privato. I bambini sono la luce, la speranza, vero? Esatto, mi strappano sempre un sorriso soprattutto ai bambini di quell'età perché sono particolarmente vivaci e rappresentano bene quello che c'è anche un po' il carattere di noi fonzasini che siamo magari persone talvolta ombrose ma che sono capaci di grandi gesti, di luminosità. E quindi sì, noi stiamo anche lì in questo senso proprio per rendere il nostro paese accogliente anche dall'esterno, per fare in modo di capire che la nostra realtà sia geografica, sia lavorativa che è culturale all'interno del paese, è interessante e vale la pena di venire nel nostro paese. Vogliamo fornire un servizio aggiuntivo per quanto riguarda l'asilo. Abbiamo anche qui una progettazione piuttosto onerosa ma che siamo in attesa di vedere finanziata per una rigenerazione degli spazi in ottica molto più moderna, un aumento anche del tempo di accoglienza dei bambini e soprattutto abbassare l'età dell'accoglienza dei bambini. Non possiamo parlare di un asilo nido perché un asilo nido in questo momento il Comune di Fonzaso non potrebbe sostenerlo nel tempo, non come spesa iniziale ma nel tempo per noi sarebbe troppo oneroso. Però possiamo pensare di poter anticipare invece l'età di un asilo, quindi invece che iniziare ai tre anni, poter iniziare ai due anni o anche un anno e mezzo. Questo è sicuramente un aiuto anche per le stesse famiglie. Turismo, che cosa ci può dire? Sì, allora turismo è un po' forse l'ombra del nostro paese. Noi turisti li vediamo passare sulle nostre statali, li vediamo passare diretti solitamente verso il Primiero. L'azione che sta mettendo in campo il Comune già da un po' di tempo e che intendiamo perseguire è quello di valorizzare quegli aspetti architettonici e culturali che sono estremamente presenti nel nostro paese. Il nostro paese ha delle caratteristiche che sono uniche anche all'interno della provincia di Belluno. Le ville, la disposizione architettonica del paese, la conservazione del paesaggio e qualche particolarità come può essere la sentieristica locale che non ha nulla di invidiare rispetto a altre sentieristiche dei territori vicini. Ha solo il problema di essere poco poco conosciuta. Abbiamo dei bellissimi sentieri che partono dal paese e arrivano fino alla cima del Monte di Tavena dove c'è la maga pubblica di cui prima parlavo e sono sentieri assolutamente percorribili in brevissimo tempo, è solo che sono poco conosciuti. Quindi per poter sviluppare quella tipologia di turismo che possiamo sviluppare, perché bisogna essere anche realistici, non possiamo fare voli impindarici, dobbiamo valorizzare ciò che abbiamo. E per valorizzare le ricchezze, Sindaco, siamo in conclusione. un ruolo preponderante all'interno di una comunità, lo ha anche il mondo del volontariato. Anche qui insomma c'è una bella realtà. Sì, qui a Fonzaso sul volontariato siamo particolarmente ferrati, abbiamo numerosissime associazioni che sono molto partecipate e spaziano fondamentalmente su ogni campo. Storicamente Fonzaso ha un rapporto abitanti, partecipanti all'associazione, anche questo, assolutamente notevole. Possiamo dire fondamentalmente che ogni Fonzasino partecipa ad almeno un'associazione quasi. E quindi è motivo di orgoglio assolutamente, proprio perché dimostra la volontà del cittadino Fonzasino di mettersi in gioco nelle sue attività di interesse. Ecco, allora su questo noi ci salutiamo, Sindaco, anche perché il nostro tempo a disposizione ormai si è concluso. Io la ringrazio comunque per le informazioni e le auguro naturalmente buon lavoro con l'attesa di ritrovarci presto per seguire quindi le tante attività della sua amministrazione. Ringrazio voi per l'opportunità che mi avete data. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci!